Benvenuti in un nuovo video Benvenuti al punto una nuova trasmissione con ospiti in studio come sempre i consiglieri regionali, andiamo a salutare Rosbrega del Partito Democratico, Presidente della Seconda Commissione e salutiamo Valerio Mancini della Lega Nord, Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Buongiorno a voi, partiamo con il tema o problema secondo punti di vista del confronto tra l'ex Assessore alla Sanità Luca Barberini e la Presidente della Giunta Cadiuscia Marini legato all'inomine dei direttori nella Sanità regionale. Riempie le pagine da diversi giorni, ecco vi comunico che noi stiamo registrando questa trasmissione di lunedì mattina, oggi è il 22 febbraio, quindi se magari ci state seguendo nel corso della settimana dovete sapere che l'abbiamo registrata, quindi non conosciamo ancora gli sviluppi che potrebbero venire fuori nell'arco appunto del passare dei giorni. Brega, situazione delicata, difficile, come la definiamo? Io ritengo innanzitutto, come ho avuto modo a dire più volte, che in un paese dove non si dimette neanche il Presidente dei parcheggiatori abusivi, il fatto che l'amico collega Luca Barberini abbia ritenuto di dare le dimissioni, non per strappunti d'altro, ma per un valore importante che è la dignità e che in qualche maniera nel rispetto di un principio che era quello dell'innovazione e del cambiamento in questa regione, ecco credo che solo questo meriti un plauso, poi è normale che si apre e si è aperta un dibattito, un confronto politico su come si vuole continuare a governare questa regione, non solo sul tema della sanità, il tema della sanità è un tema, ma i tanti temi che sono sul piatto rispetto a come nei prossimi anni vogliamo governare questa regione, se la vogliamo governare innovando e cambiando realmente o se vogliamo far sì che questa regione diventi una delle regioni più conservatrici d'Italia. Ecco io credo che una sinistra riformista, un partito democratico riformista debba mettere in campo un'azione di grande modernizzazione e di grande riformismo, se questo c'è noi ci saremo, se questo non è ne prenderemo atto e apriremo una riflessione ancora più importante. Il gruppo a cui fa riferimento, possiamo dire Barberini è composto in base anche ai comunicati, alle prese di posizione da 5 consiglieri, ecco poi vado da Mancini, però subito dico a lei questa situazione secondo lei si potrà risolvere nei prossimi giorni oppure ci vorrà tempo oppure peggio ancora non potrà essere risolta? Noi siamo con me i 5 consiglieri che hanno chiesto durante le elezioni un consenso appunto su un progetto di innovazione e cambiamento per questa regione, questo progetto noi lo vogliamo portare all'interno del PD e all'interno del governo di questa regione, pensavamo che questo percorso fosse stato capito da tutti, mi sembra che c'è stato qualche piccolo problema, io mi auguro che si possa in qualche maniera cominciare a rinavigare tutti insieme sulla stessa rotta, cercheremo in qualche maniera se qualcuno vuole andare fuori rotta di fargli capire che la cosa migliore è ritornare nella rotta giusta che poi è quella della rotta dei cittadini, laddove non si volesse assolutamente interpretare questa rotta, come dicevo Puganzi, io sono deciso, con i miei colleghi siamo decisi che non si può fare il renzismo a Roma e essere conservatori in Umbria, o si crede in tutta Italia sia quando si è a Roma e quando si è in Umbria di essere riformisti, non si può fare la politica dei due forni come si faceva tanti anni fa come qualcuno ama ricordare la prima repubblica, allora se si vuole essere innovatori lo si deve essere sia in Roma che in Umbria, che non si può fare da una parte in una maniera e da una parte l'altra. Torneremo poi con un'altra domanda, sempre sull'argomento, vado da Valerio Mancini, mi pare che la posizione di Brega sia estremamente chiara, lei che dici? Non lo riconderrei solo a una questione di riformismo, è un problema politico grave, non è mai successo nella storia di questa regione che un consigliere, nonché assessore, ha poco da poco iniziato il mandato, si dimette, quindi c'è una crisi politica della Giunta Marini che è in assonanza con il mal governo che ha contraddistinto ovviamente la passata legislatura. Ne prendiamo atto, la Lega aveva iniziato in periodi non sospetti che il tema sanitario era una cosa dove c'erano grandi criticità, sollecitati da cittadini, abbiamo iniziato noi e il mio collega Fiorini il 19-11 del 2015 presentando un atto, il 248, quindi in epoca non sospetta, in cui chiedevamo alla Presidente Marini in base alla legge regionale numero 11 del 2015 che i nuovi direttori venissero nominati all'interno di un elenco, quindi in piena libertà come prevede la legge da parte della Presidente Marini, ma all'interno di un elenco composto da nomi valutati da una commissione valutatrice. Si tenesse conto non solo dei curriculum precedenti, quindi anche delle esperienze maturate, ma anche di una prova tecnica attitudinale che venisse un po' a tagliare un altro profilo. Questo perché? Perché i risultati che emergevano, che sono sotto gli occhi di tutti, la Sanità Umbra ha perso tantissimo, io devo dire che rispetto alla Giunta Lorenzetti, dove avevamo nel 2009 un saldo attivo della mobilità di 30 milioni e 700 mila Euro, siamo scesi nel 2014 con la Giunta Marini che si è trattenuta in gran parte, si è dato la deleghe della Sanità, a un saldo attivo di poco più di 3, quindi vuol dire che c'è un calo delle prestazioni, dell'appetibilità della sanità regionale che ha visto scegliere i cittadini Umbri altre mete. Non si sta ponendo rimedio secondo me, tant'è che anche la legge nuova che è stata impugnata dal Consiglio di Stato, quindi dall'Avvocatura dello Stato, dimostra le sue criticità. Qui come l'ho fatto vedere in Consiglio ci sono un elenco consistente di note, questo va fatto vedere, è un fascicolo molto corposo in cui praticamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri fa dei rilievi in seno alla legge numero 11 del 9 aprile del 2015, quindi espone dei rilievi consistenti. Cosa dire ancora? Questo è un ultimo comparso giornale qualche tempo fa, medici e dirigenti vincono sugli arrietrati in ballo 2 milioni, secondo me la sanità in questa regione è stata personalizzata troppo, quindi sotto questo aspetto condivido alcune posizioni del Consigliere Brega, noi l'abbiamo cercato di farlo, diciamo questa necessità di rinnovamento, di far emergerlo in aula, non è andata così, abbiamo riprovato unitamente con tutti i consiglieri di centro-destra, ma non c'è stato possibile discutere perché i motivi sono ben noti, cioè non si è avvenuti alla discussione perché non si è presentata la Presidente Marini, correntemente devo dire l'assessore, l'ex assessore Barberini ha rivendicato la sua posizione di rinnovamento, quindi su questo punto tanto di cappello, però dico che il centro-destra ha sempre richiesto questa cosa, quindi non siamo stati ascoltati già qualche mese fa. Brega, in sede di conferenza stampa che Barberini ha tenuto la scorsa settimana per spiegare le motivazioni delle sue dimissioni, ha annunciato la presentazione nel mese di marzo di una proposta di legge che già, diciamo, prese in considerazione, diciamo così nella passata legislatura, che prevede una sola ASL e una sola azienda ospedaliera con due articolazioni, insomma. Quello sarà un punto focale di passaggio della legislatura, secondo lei? Io credo che questo non debba scandalizzare nessuno perché nel 2012 il consigliere Brega, primo firmatario, insieme al consigliere Barberini e al consigliere Smacchi, presentammo un testo di legge appunto che nella riforma che portò da 6 a 4, praticamente delle due aziende e delle due ASL, noi praticamente nel 2012 sostenemmo un'azienda e un'ASL, un'unica azienda ospedaliera con la sede a Perugia, un'unica ASL con la sede a Terni. Tutto ciò non passò per un voto perché, diciamo così, l'allora opposizione, si schierò una parte dell'opposizione, ritenne opportuno di non sostenere questa tesi, ma di sostenere in qualche maniera quella che era la tesi dell'attuale Presidente Marini, che è l'attuale legge, due aziende e due ASL. Non è una novità, insomma. Dunque per noi, diciamo, noi adesso chiameremo anche le altre forze, diciamo che sono presenti in aula, a capire se a parole, le parole che si fanno possono essere tramudate. Noi ripresenteremo un testo di legge che è coerente con quello che dicevamo nel 2012, che tra l'altro, perché purtroppo in molti non hanno la mente corta o fa comodo non ricordarlo, basta leggere la nuova convenzione fatta tra Regione e Università, sostanzialmente l'azienda unica si fa con questa nuova convenzione, perché quando si parla di 10 dipartimenti interaziendali, diventa difficile pensare a 10 dipartimenti interaziendali senza che ci sia realmente un unico cervello. Dunque voglio dire, nei fatti, l'azienda unica ospedaliera è stata fatta con l'ultima convenzione firmata sempre dall'attuale Presidente ad aprile-maggio del 2015, poco prima delle elezioni. È stata resa nota da poco, dunque noi non faremo atto che comunque ripresentare un disegno di legge per noi scontato, normale, fatto nel 2012. Apriremo un dibattito all'interno dell'Assemblea e vedremo chi veramente ha voglia di cambiare questa regione e chi no. Una domanda, Sibillina, l'avreste presentato lo stesso se non fosse accaduto questa situazione a livello di nomine? Sì, magari l'avremmo presentato, sarebbe stato magari l'assessore preposto a costruirlo nei tempi, a portarlo nei tempi, ma presccome presenteremo sicuramente altri atti importanti, faremo una riforma seria di sviluppo Umbria e Geva, fine, cercheremo in qualche maniera di lavorare per cambiare questa regione. Ci vorrebbero due ore per poter entrare nelle varie problematiche, non abbiamo questo tempo, lo farete sicuramente in altre trasmissioni. Su questo punto la campagna elettorale del 2015 del centro-destra prevedeva centro unico di acquisti e ASD unica, ovviamente azienda ospedaliere unica. Possiamo anche divenire a tutte le valutazioni del tema, ma è anche vero che quello che ci preoccupiamo è che, come è successo per le province, questo bisogna dirlo, che le riforme siano vere, perché poi se le riforme che si inventa Renzi, come è successo per le province, che poi alla fine lasciano tutti i dipendenti, tutti i dirigenti, ieri sui giornali c'era la storia dell'orologio dell'iPhone comprato a 1000 euro, insomma se tutto il meccanismo organizzativo rimane in piedi e non si addiviene alla riduzione di dirigenti e di direttori, alla fine poi possiamo anche essere a zero ASD, ma seppurché le poltrone vengano ridotte, possiamo anche fare tutte le valutazioni del caso. Per quello che mi riguarda nel 2012, mi pare che la posizione della Lega, non ricordo perché non c'ero io, si siano astenuti, perfetto, ma gli altri ovviamente preso una posizione. È chiaro che la riforma del 2014, quella che fece, pardon, del 2012 che fece Monti, della riduzione delle ASD, poi di fatto non ha portato un risparmio per quanto riguarda l'aspetto burocratico delle ASD, tant'è che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo liste di attesa lunghissime, il problema è che oltre che una riforma di facciata, va fatto capire agli lettori e ai cittadini che interessa, che a noi ci interessa, quindi spero che su questo si arrivi al punto, accorciare i tempi di attesa. Non si capisce, in questa regione abbiamo davanti un continuo prolificare di ambulatori privati, dove da una parte abbiamo un grande servizio nel mondo del privato e di là nel pubblico all'allungamento dei tempi di attesa. Faccio la domanda, ma l'ha votato o no la legge un'azienda di Nasle? O sarete anche questa volta votato? No, 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 perché qui la domanda è secca, sì o no? Ho risposto prima, ho risposto prima, ho risposto dal consigliere Brega, lei è un'esperienza politica, i risultati che sono oggi sotto gli occhi di tutti sono imputabili esclusivamente alla vostra governo. Sì, ma la domanda è diversa. Io stai tranquillo, quando la domanda... L'azienda di Nasle, voi la votate o ancora una volta vi nascondete dietro a un tempo di cosa? No, no, si nascondono gli altri, io mi nascondo, non si preoccupi. Quello che dico... L'azienda di Nasle, la votate... No, 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 è stato chiarissimo. No, 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 vorrei capire una risposta. Allora, quando le riforme vengono dalla sinistra, sia ben chiaro, non sempre sono vere queste riforme, l'ho detto prima... Ma le riforme non hanno colore, le riforme non hanno colore. Io vi conosco, vi conosco. No, no, vi conosco, lo sai. Vi ho visto con la riforma dei tribunali, vi ho visto con la riforma... No, scusi, è delle province... Quelli sono aspetti nazionali, a livello regionale, una proposta di legge, un'azienda o un'azienda, voi la votate o no? Sì, signor, la metta nel tavolo e vediamo quante poltrone tagliano, quante poltrone tagliano, quelle vere, perché le dico subito, con l'ASD unica, io vengo da Città di Castello, l'ASD uno, e benissimo, andiamo con Perugia, benissimo, allora abbiamo il doppio direttore, responsabile infermieristico, area est, area ovest, area sud, scusi, eh, tagliamo le poltrone, tagliamo le poltrone, noi delle ASD ne tagliamo quante ne vuole. Era nel programma politico del sottoscritto e della legge. Però, ripeto, ci deve essere scritto chiaro e tondo, sia ben chiaro, che i dirigenti, i responsabili, si tagliano uno, uno, uno per comparto, non dieci come prima, che alla fine i cittadini non cambia nulla. Andiamo avanti, cambiamo argomento, dobbiamo aggiungere qualcosa, Mancini, sulla sanità. Possiamo passare a un altro argomento, a lei particolarmente caro, ma credo anche ad Eros Brega, che è quello dell'Unione Civili. Unione Civili è un argomento che il Parlamento sta portando avanti da molte settimane, le novità ogni giorno sembra si rincorrano, quella di oggi è che sembra venga posto anche, c'è questa possibilità, il voto di fiducia, chiaramente stornando un emendamento che riguarderebbe la stepchild adoption, per cui diciamo che Renzi andrebbe, cioè andrebbero al voto, al voto di fiducia insieme all'attuale maggioranza. Questo è dalle ultime notizie che arrivano, poi ripeto è in evoluzione la situazione in maniera continua. Come andrà a finire Mancini? La posizione della Lega e Regione voleva semplicemente indicare, insieme allo statuto, insieme a unitamente tutti i colleghi del centro-destra, che venga inserito il concetto di famiglia naturale, quindi non altre forme di famiglia. Quindi una frase tra l'altro molto semplice, che però devo dire che i consiglieri di maggioranza hanno respinto, di maggioranza non hanno preso in considerazione questa frase che è molto tecnica, cioè la famiglia naturale, tra l'altro con richiami anche al Codice Civile e alla Costituzione. Ora, la Presidente Marini, ricordo, lo disse che gli articoli 147, mi pare 149, del Codice Civile, siccome era scritto in un periodo storico che a lei non piaceva, non sarebbe passato. Comunque quello è un testo in vigore. Se facciamo le leggi in funzione, cioè se approvano e si apprezzano le leggi secondo il periodo storico in cui sono approvate, vorrebbe dire che noi dovremmo tagliare metà dell'impianto legislativo del nostro, diciamo, Stato. Noi cosa diciamo? La Lega è chiara, sulle leggi civili è inteso ovviamente senza la step child adoption, che è una parola inglese per, diciamo, imbottire un concetto. L'adozione del figlio del partner, insomma. Sì, sì, ma dico, ma che centriamo? Cioè, mentre dati della CGA di Mestre, ma anche della CGL, dicono che abbiamo perso ulteriori posti di lavoro nel mese di gennaio, abbiamo aumentato la cassa integrazione in dergo del 70%, la priorità è mettere la fiducia su questa legge. Io dico, va bene tutto, però ci sono altre priorità, c'è la sicurezza, l'immigrazione. Se fosse, diciamo, la questione di fiducia, la Lega voterebbe proprio per l'Unione Civile? Dunque, la Lega, io non sono a Roma e per quello che guarda, se fosse qui a Perugia, io la legge in toto non la voto. No, dicevo, togliendo la step child adoption... La Lega ha espresso posizione contrario su tutto l'impianto legislativo. Ma anche qui, io lo dico, io ho fatto battaglie... Signori, adesso bisogna farlo vedere questo libro. Ci sono libri... Non lo faccio vedere, facciamo se è possibile... Questi sono dei libri che vengono, diciamo, distribuiti in alcune scuole, penso in una maggior parte, per l'amore di Dio va tutto bene, però viene, diciamo, illustrato diversi tipi di famiglie ai bambini, vengono sotto forma di favola, eccetera. Va tutto bene, però dico, a un certo punto, qui ci sono espressamente due pinguini, con un bambino, cioè come con un cucciolo, insomma, va bene tutto. Non bisogna, secondo me, andare a, diciamo, a raccontare cose che sono un po' al di sopra di quelle che sono le naturali processi decisionali che aspetta ogni singolo individuo e nella sua maturità farà le sue scelte. Non andiamo... Più che altro voto di coscienza, no? Voto di coscienza, però anche voto di consenso, se mi permette. Io l'ho detto pubblicamente, cioè, siamo cresciuti con una mamma, no alla pratica dell'utro in affitto, cioè, ma dove, signori, adesso non è che vogliamo proprio... Secondo me si sta travalicando troppo un po'. Ecco, un po' di buonsenso serve. Purtroppo non abbiamo più molti minuti e volevo affrontare un altro argomento. Brega, su questa situazione, su questa questione. Ma, guarda, io su questo tema credo che sia un tema che innanzitutto meriti rispetto, merita rispetto e non debba avere strumentalizzazione. Io su questo tema, diciamo, credo che l'Italia sia un pochino dietro per quello che riguarda i riconoscimenti civili di alcuni diritti, bisogna avere il coraggio di riconoscerlo. Ecco, vorrei che questo tempo perso in questi anni non ci spingesse a fare magari leggi troppo spinte in un'altra maniera. Ecco, io credo che il tempo perso in questi anni meriti rispetto per tutte quelle persone che sostanzialmente provano un sentimento e questo sentimento lo vogliono proprio vivere al di là della provenienza del sesso e quant'altro. Credo che appunto il sesso di una persona non possa delineare o definire il sentimento che debba esserci tra di loro. Quindi i riconoscivili bene? Io non ho problemi in riconoscivili, ribadisco anche che credo che l'Italia sia indietro rispetto a questo. Rispetto al tema dei bambini, su questo io sono sincero, ho delle perplessità, ma non sono una persona che vede ostacoli enormi, ho delle perplessità. Perplessità che in qualche maniera ogni persona intelligente, capace, che vuole crescere sta a me cercare di migliorarmi cercando di capire e di informarmi. Una cosa è certa, su una cosa che non condivido è quella dell'utero in affitto. Credo che su quello non ci dovremmo mai arrivare, anzi non riesco a capire come mai i movimenti femministi su questo siano molto silenziosi anche in Umbria. Perché posso capire anche il fatto dell'affitto dell'affitto del figlio del partner e quant'altro, però credo che ufficializzare o addirittura non dire nulla sull'utero in affitto, che sostanzialmente una donna diventa una macchina, metti un gettone e fa un figlio. Credo che su questo, secondo me, dovremmo tutti meditare, anzi dovremmo tutti impegnarci a difesa della donna, perché le donne non vanno difese soltanto quanto fa commodo, soltanto quanto bisogna costruirci dietro un movimento politico. la difesa dell'individuo, in questo caso la difesa della donna, va fatta sempre, a 360 gradi in ogni momento. Sì per l'Unione Civili, sull'adozione ho delle forti perplessità, ma non farei dei muri di Berlino, su quello dove alzerei i muri di Berlino, perché credo che quello sia veramente un'umiliazione per le donne. Allora oggi, se no bisogna essere chiari, nella legge l'utero in affitto e la step child option è intrinseca, cioè quindi, nel senso non è che si può votare una legge a pezzi, a paragrafi, o uno decide in questo caso di rifare un impianto nuovo su cui si valorizzi l'aspetto anche patrimoniale delle unioni civili, cioè per quella fine è quello che conta, l'assistenza sanitaria, la tutela patrimoniale, le successioni, cioè si metta in fila e si completi i buchi che praticamente la legislazione normale non contempla. Ma su tutto il resto, chiaramente, c'è ovviamente piena assonanza, penso che il consigliere Berlino. Ma la legge non è, cioè della serie, prendo un vestito, ma la manica non mi piace, il collo neanche, allora niente, tagliamo questo vestito e ne rifacciamo uno nuovo. Io credo che un tema importante da legare su questo sia rifare in Italia una legge sulle adozioni, questo è uno dei temi veri, perché oggi se una coppia, se una coppia sia etero che omosessuale vuole adottare un figlio è qualcosa di un complicato incredibile e di un costo incredibile. Non sopportare testimonianza personale. No, ma dato che anche io conosco la situazione, allora io dico, secondo me, facciamo subito l'Unione Civile, anzi l'avremmo dovuto fare noi ieri, una vita fa, facciamo questo riconoscimento e poi facciamo una legge vera di semplificazioni per le adozioni e in questa legge di semplificazioni per le adozioni comprendiamoci anche quelle coppie che comunque provano sentimento al di là del sesso. Questo chiaramente riguarda... Ma non l'abbiamo in raffitto. Certo. Allora, oggi, ripeto, stiamo registrando questa trasmissione, è lunedì 22 di febbraio, è uscito sulla Nazione, purtroppo mancano solo 4 minuti, ma è un articolo in cui dice ora gli immigrati tornano a casa, la vecchia Umbria si spopola, persi 4 mila residenti in un anno, sempre meno figli, sale l'età media. Questo è un articolo uscito oggi sulla Nazione. Io volevo soltanto entrare nel contesto di dire che mentre nel 2010 fu superato il numero di 900 mila abitanti, si è scesi a 891 mila. Questo lo possiamo collegare a livello di welfare, ma anche a livello di economia, lo possiamo collegare a livello di una situazione particolarmente generale di questa regione. Lei come lo vede, Mancini, invece? Beh, danno e malanno, nel senso che già nel 2014, 1111 ragazzi con alta scarolizzazione sono andati all'estero, e quindi rispetto, sono il triplo dei stranieri che sono fermati nel nostro territorio. Quindi abbiamo mandato via da questa regione, perché comunque non ha colto le loro preparazioni, cioè il mondo del lavoro non è stato in grado di accoglierli, 1.111 giovani, quindi persone preparate, che quindi hanno trovato il loro impiego in importanti ruoli e posti di lavoro all'estero. Quindi ci stiamo impoverendo dal punto di vista culturale, e questo perché? Perché c'è una politica della famiglia e del lavoro sbagliata, rientriamo sempre lì, cioè non si defiscalizza le imprese, cioè si pensa a queste forme, e qui devo dire che il governo Renzi, secondo me, è una grande responsabilità, cioè l'enorme massa di denaro messa in campo sul job acta ha fallito, perché i dati, ripeto, adesso usciranno, sulla cassa di integrazione in regola, in deroga, saliranno del 70% nel mese di gennaio, sono dati ufficiali, di conseguenza che succede? I 12 miliardi che vengono messi in piedi per questa assunzione, dovevano essere per la defiscalizzazione, non è successo questo. questo è grave. Prego, siamo come vede in conclusione, ma... Guarda, questo dato dimostra una cosa, che una regione di poco più di 800 mila abitanti, io fai le riforme o muori. E dunque questo dato rappresenta, adesso con un minuto è difficile commentarlo, perché in questo dato c'è da dividere un problema economico, un problema sociale, un problema di integrazione, appunto la grandezza di una regione, ci far capire come noi dovremmo lavorare quanto prima per creare una sinergia e abbattere i confini regionali, perché una regione come l'Umbria deve, secondo me, lavorare per rimanere attaccata ad essere l'ultima regione del centro nord e con tutto il rispetto evitare di essere la prima del centro sud. Perché se noi riusciamo a rimanere attaccati al carro della prima regione del centro nord, rispetto a alcuni temi importanti, riusciamo a dare delle risposte. In 30 secondi, veramente, per dare un commento velocissimo a questa situazione, è se una regione come l'Umbria non fa più accoglienza e non riesce più neanche ad accogliere e neanche intorno a quelli che in qualche momento... Noi riuscivamo, fino a qualche anno fa, riuscivamo a valorizzare il ruolo degli emigrati. Ecco, io vorrei che l'integrazione degli emigrati in questa regione fosse una risorsa e non fosse vissuta né dagli Umbri e né da tutti noi come un elemento di sofferenza, perché nel momento in cui viene vissuta come un elemento di sofferenza, neanche l'emigrato ha più ruolo e come vediamo anche l'emigrato viene... No, noi dobbiamo valorizzare e rispettare gli Umbri, ma l'emigrazione o l'emigrato in questa regione... Ma se vuole può intervenire. Un minuto si può intervenire, poi chiudiamo. Non è che io voglio fare distinzioni, però ricordiamoci sempre, bisogna portare il rispetto a tutti, dobbiamo pretendere che l'emigrato rispetti le regole, non possiamo penalizzare l'emigrato, poi l'emigrato deve rispettare le regole, come le rispettano gli italiani. Valorizziamo le imprese per far assumere le persone, cioè se io ti metto i studi di settore, se io ti metto la tassazione al 72%, è la fonte, quella dell'ONU, che si chiama World European Tax Packing, una parola inglese che vuol dire quante tasse paga un'impresa, siamo al 72% in Italia, quindi compresa la regione Umbria, primi nel mondo. Perché c'entra l'immigrazione? C'entra l'immigrazione perché noi stessi diventiamo immigrati, cioè andiamo a lavorare fuori perché le nostre imprese non ci attoglano. era diversa. Gli immigrati non possono venire a costare alle nostre comunità, lo sappiamo più, con le casse popolari, con il contributo affitto, siamo alla fine, non possiamo andare oltre perché ci taglierebbero. Grazie per averci seguito, grazie a Eros Brega, del Partito Democratico, Presidente della Seconda Commissione, a Valerio Mancini della Lega Nord, Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.